Buonasera a Vittoria Colizza, direttrice del laboratorio di ricerca e analisi dell'Istituto Francese di Sanità, buonasera Gianrico Carofiglio, scrittore, buonasera Luca Bizzarri, attore, conduttore e presidente della Fondazione Palazzo Ducale di Genova e buonasera Alessandro Sallusti, direttore del giornale. Dopo 69 giorni di lockdown l'Italia riparte con grandi paure per l'economia ma anche per il virus che non è scomparso. Conte parla di rischio calcolato, ma è davvero così? Subito dopo la pubblicità. Grazie a tutti. Dottoressa Colizza, dopo 69 giorni di lockdown l'Italia riapre e riparte, ma con un virus ancora in circolazione. Si può dire, come ha detto il Premier Conte, che è un rischio calcolato? La decisione del calco del rischio è un calcolo che si fa da un lato, chiaramente il rischio epidemico e dall'altro il rischio di tutti gli altri effetti collaterali che il confinamento ha avuto, quindi da un punto di vista sociale ed economico. Se rimaniamo sugli aspetti epidemiologici, chiaramente il rischio non è zero, l'epidemia continua a circolare, l'abbiamo visto e continuiamo a vederlo con dei nuovi cluster che emergono. L'importante è riuscire a continuare a controllarla questa epidemia nelle prossime settimane, quindi la difficoltà sta esattamente in questo. Da un lato continuare a tracciare e identificare il più rapidamente possibile cluster che si possono generare e dall'altro anche continuare a monitorare con assiduità e in maniera estremamente precisa, giorno dopo giorno, gli indicatori epidemici per poter allertare di conseguenza la macchina politica a qualora si debbano fare dei cambiamenti dal punto di vista degli interventi. Gianrico, caro figlio, tu ti senti tranquillo e oggi tu, lei, ci diamo del lei, e oggi lei si è preso delle libertà che fino a ieri non si era preso? Certo che me le sono prese, sono uscito rigorosamente attrezzato del necessario, sono andato a comprarmi un maglioncino, sono andato a prendere un caffè in un bar, ho passeggiato, incontrato delle persone e ho percepito un'atmosfera che mi è piaciuta, devo dire. C'era parecchia gente in giro, parecchia gente in coda davanti ai negozi, soprattutto di abbigliamento, sia quelli più popolari, sia quelli del lusso, il che non è una cattiva cosa, perché è necessario mettere soldi in circolazione, è necessario spendere, è necessario che l'economia si rimetta in moto. Le persone erano disciplinate, avevano tutti quanti la mascherina nelle file, in qualche caso di assembramenti un po' meno regolari, ho visto la polizia municipale intervenire con garbo, come dovrebbe in generale essere, senza gli atteggiamenti che qualche volta in queste settimane un po' concitate abbiamo dovuto registrare, non sempre i più adeguati nel rapporto con il cittadino, c'è stato qualche momento di grande tensione che ha prodotto anche comportamenti qualche volta un po' sopra le righe. Quindi la mia sensazione è stata complessivamente positiva, va detto che io ho un'inclinazione ottimistica, ho l'attitudine a cercare di vedere le cose e gli aspetti positivi, però io sono abbastanza convinto, ora sto per dire una cosa che suona un po' banale, è stata detta tante volte, che però quello che è successo e quello che succederà in questi giorni può diventare una formidabile occasione per tirar fuori delle energie che non sapevamo di avere, per tirar fuori anche delle capacità di attenerci alle regole e trasformarle in una prosa quotidiana dopo la poesia, la lirica di questi due mesi e mezzo, di questa emergenza, e cercare di immaginare un futuro in cui lo stesso modello di sviluppo che è diventato una specie di totem per tanti anni, quello che fa del PIL, del quantitativo, della crescita all'infinito, l'unico obiettivo possa essere ripensato. Io ho letto recentemente queste riflessioni di alcuni economisti un po' fuori dal mainstream che parlano per esempio quella che si chiama Danut Economy, l'economia della ciambella, che è un tipo di economia circolare che la città di Amsterdam ha dichiarato di voler adottare per il futuro, immaginando di mettere al centro dell'azione, non più soltanto una questione quantitativa di crescita, ma il benessere delle persone, l'economia verde, la qualità delle relazioni. Caro figlio, un'occasione di grandi cambiamenti, però queste occasioni bisognerà coglierle, capire come coglierle. Non so se essere così ottimista. Alessandro Sallusti, tu sei ottimista come caro figlio? Forse no, anche perché se cito il titolo del tuo giornale oggi è falsa ripartenza. E com'è andata a Milano? Ma a Milano è andata apparentemente bene. Insomma non si nota una grande differenza rispetto alla semi ripartenza. Molti negozi hanno preferito non riaprire e qui mi permetto, caro figlio ha detto delle cose di assoluto buonsenso, però tra il benessere e la situazione economica c'è un legame stretto, perché nessuno in povertà è felice, non solo felice ma non sa neanche benissimo, quindi pensare a un mondo diverso senza alimentarlo economicamente è un po' un'utopia. Ma infatti ho detto falsa ripartenza perché i decreti economici che avrebbero dovuto accompagnare la riapertura sono rimasti lettera morta, sia il primo che prevedeva la casa integrazione, i crediti, i microcrediti alle imprese, alle famiglie, sia il secondo, addirittura il secondo, quello pazzesco, 50 miliardi, ancora oggi l'Italia ha riaperto ma il decreto non esiste ancora nonostante Conte ce l'abbia annunciato, non c'è che quel decreto a tuttora è un fantasma, non esiste, non è stato bollinato dalla magistratura e quindi non controfirmato dal Presidente della Repubblica. Cioè è una falsa partenza perché dopo tre mesi 16 commissioni, 600 esperti, si sperava e si immaginava che gli imprenditori, i commercianti, insomma che tutto potessero ripartire in sicurezza oltre che sanitaria e economica. invece gli è stato detto signori state distanziati e mettete la mascherina, che è quello più o meno che mi dice il mio portinaio quando al mattino esco e lo saluto, mi raccomando direttore stia distanziato e tenga la mascherina. Ecco, più falsa partenza di questa non riesco a immaginarla. Luca Pizzarri, lei come si colloca in questo dibattito più ottimista, più pessimista? Genova come è andata e è una falsa ripartenza? Mi collego a quello che ha detto Dottor Caro Figlio, una volta chiesero a un illustre mio concittadino Paolo Villaggio che cos'è la felicità e lui che era un grande provocatore disse che è un senso di benessere economico. Genova è una città molto discreta e molto concreta per cui la ripartenza è stata per ora molto lenta, c'è poca gente in giro e tutti con le mascherine. Purtroppo noi abbiamo in più qualche difficoltà proprio legata a come è fatta la città. Il centro storico di Genova ha delle vie talmente strette dove il metro di distanza non c'è perché non sono neanche larghe un metro e quindi per i ristoratori del centro storico, per i commercianti del centro storico della città che sono tanti, le difficoltà saranno ancora di più e sono d'accordo con Sallusti, finora tutto quello che è stato fatto dal governo sono parole ma infatti finora se ne vedono pochissime. Ma lei che cosa ha fatto oggi di diverso dal solito? No, io sono stato a casa perché è stata una fregatura per me questo coronavirus nel senso che ho imparato a vivere in casa, cosa che non facevo tanto e mi ci sono abituato per cui per uscire aspetto la fase 6, dovranno tirarmi fuori casa come con le vespe, dovranno mettermi una carta di giornale, darci fuoco e farmi uscire come si fa con le vespe. Dottoressa Colizza, è questo anche il rischio che tante persone si sono abituate a stare a casa e che aspettano la fase 6 come dice Luca Bizzarri e al di là delle battute, quali sono i rischi maggiori di quella che in Italia chiamiamo fase 2 bis? Quando Sallusti dice, sì, il mio portiere mi dice, dottore stia attento, metta la mascherina, stia distante dagli altri, che questa è quasi una ovvietà, ma forse non è così un'ovvietà, no? No, certamente non è un'ovvietà, è proprio il criterio utilizzato per poterci difendere dalla trasmissione perché attraverso questo tipo di contatto che il virus si trasmette o per contatto fisico, quindi toccandosi, abbracciandosi, baciandosi, cose che abbiamo già eliminato dalla nostra vita sociale da qualche mese, oppure stando vicini semplicemente per la trasmissione del virus attraverso queste goccioline, goccioline che possono essere o di grande taglia e quindi cadere poi di lì a un metro di distanza, ecco perché utilizziamo questa distanza di almeno un metro, oppure in altre condizioni, soprattutto in ambienti chiusi, possono invece rimanere goccioline più piccole, quindi possono rimanere sospese nell'aria, sono goccioline chiamate aerosol, ancora non sappiamo bene se ci sono da un punto di vista esplicito se la carica virale contenuta dentro questo aerosol possa effettivamente trasmettere, però è un dato di fatto che su 150 cluster di trasmissione analizzati, due terzi sono avvenuti in situazioni di ambiente chiuso. Uno studio giapponese ha anzi mostrato che il rischio di trasmissione in un ambiente chiuso è 20 volte superiore al rischio di trasmissione in un ambiente aperto, quindi quello a cui dobbiamo fare estremamente attenzione è sicuramente proteggerci, quindi proteggere dall'espulsione di queste goccioline con la maschera, sicuramente mantenere questo metro di distanza e cercare di evitare il più possibile i luoghi chiusi, se ci sono luoghi chiusi di arearli il più possibile. Ricordiamocelo sempre che il virus non se ne è andato, è ancora tra noi e quindi stiamo sempre allerta. Gianrico, caro figlio, intanto volevo sentire se era d'accordo con Alessandro Sallusti con questa analisi molto negativa sull'operato del governo e sui due decreti che complessivamente stanziano 80 miliardi di euro, la più grande manovra economica della storia della Repubblica, però è vero che alla fine sta arrivando troppo poco e troppo tardi per singoli imprenditori, piccoli, medi, grandi, i singoli cittadini, le donne. Facciamo un paio di premesse, la prima è questa, sono del tutto d'accordo sul fatto che se la gente non ha da mangiare hai voglia di parlare di benessere diverso da quello materiale, quindi diamo per scontato, è una premessa inevitabile, che le condizioni materiali, il funzionamento dell'economia, la produzione di ricchezza e, consentitemi di aggiungere, una sua diversa e più equa distribuzione, sono premesse di qualsiasi modello di sviluppo, anche modello di sviluppo alternativo a quello che si basa esclusivamente sull'idea della crescita indefinita. Fatta questa premessa, io credo, come ha detto lei un attimo fa, che siamo di fronte alla più gigantesca manovra economica della storia della Repubblica in una condizione di totale emergenza. Questo è la premessa per esprimere qualsiasi giudizio. Tutti quanti vediamo i limiti dell'azione dei governi, intendo del governo centrale come di quelli regionali, limiti che sono di merito, limiti che sono di metodo, limiti che sono di comunicazione. Però la questione è, intanto io, mi chiedo io, cosa avrei fatto se avessi dovuto gestire un'emergenza di questo tipo e naturalmente non mi so rispondere. E poi dico che in questa partita, come in tutte le partite, forse il giudizio va dato perlomeno alla fine del primo tempo e noi alla fine del primo tempo non ci siamo arrivati per dire se si sta giocando in modo accettabile, se la prospettiva è corretta, se bisogna anche cambiare qualcosa nella squadra, ci sono anche queste possibilità. Quindi è una questione del punto di vista in cui ci si colloca per guardare una determinata vicenda. Se io guardo una partita di calcio in televisione, sono abbastanza in grado di dire che una squadra sta giocando bene e un'altra sta giocando male. Non sarei in grado di giocare io al posto loro e sono consapevole del fatto che molto spesso la qualità del gioco dipende da molti fattori, non tutti controllabili. Quindi sono solo parzialmente d'accordo con l'intervento di Sallusti. Alessandro Sallusti, tu come repliche a caro figlio e vista la tua premessa, hanno ragione quindi i leader dell'opposizione di destra, Giorgia Meloni e Salvini, ad andare in piazza in serata, hanno detto che andranno in piazza il 2 giugno, saranno in 100 piazze italiane contro questo governo, contro la gestione dell'emergenza coronavirus. Hanno ragione? Guardi, io vorrei, pregherei che caro figlio adesso ha ragione, nel senso che in quel caso vorrebbe dire che gli italiani hanno avuto qualcosa per provare a rimettersi in piedi e solo un cretino potrebbe dire no, ma se queste cose gliele dà Conte non mi piacciono. Chiunque arrivino anche dal diavolo, qualsiasi aiuto è benedetto. Quindi io mi auguro che abbia ragione caro figlio per il bene degli italiani, dopodiché però dico che i soldi, 50, 70, 80, 90 miliardi sono soldi quando entrano nelle tasche della gente, se no sono soldi del Monopoli. Ci sono 80 miliardi, ma chi li ha visti? È come giocare a Monopoli, sì, girano dei miliardi ma in realtà non esistono. Sulla piazza, io dico questo, io non sono particolarmente favorevole a scendere in piazza, però dico che se alcuni partiti o alcuni partiti non si organizzano per raccogliere il malcontento anche di piazza, c'è una possibilità e non lo dico io, lo dicono le informative dei servizi, le informative delle prefetture, lo dice anche la logica, che c'è il rischio che la gente scenda in piazza da sola non organizzato. E allora siccome abbiamo visto stagioni in cui la gente scendeva in piazza non sotto il cappello di partiti democratici rappresentati in Parlamento, ma scendeva in piazza, in strada per gli affari suoi, non sono stati dei bei tempi. E questo rischio esiste, per cui non mi appassiona l'idea di vedere il 2 giugno la gente in piazza, ma meglio in piazza sotto una bandiera qualsiasi sia, forse anche quella del PD, che non nei vicoli da sola far casino, perché questo, ripeto, è un rischio reale. Berlusconi ha reagito in serata dicendo che ha sentito tutti, che è un momento di unità di tutti gli italiani e che bisogna andare in piazza senza bandiere e rispettando la distanza di sicurezza. Luca Bizzarri, questo andare in piazza sarà un altro esperimento completamente nuovo nella storia della nostra Repubblica. E poi è un po' troppo severo, Sallusti, col governo, perché il decreto, questo l'ultimo dei 55 miliardi, è stato varato tre giorni fa, quindi è ovvio che non arrivi niente nel giro di qualche giorno, ci vuole un po' di tempo, no? Sì, si potrebbe anche dire che in altri paesi è stato varato prima e i soldi sono arrivati. A me fa molto sorridere questa cosa della discesa in piazza, perché purtroppo per mestiere devo guardare le cose da un punto di vista differente o per fortuna. Intanto questa discesa in piazza del 2 di giugno non è un'idea né di Salvini né di Meloni, ma è un'idea del generale Papalardo che ha deciso prima di tutti di scendere in piazza e loro si sono accodati. E poi fa molto sorridere leggere in questi giorni retroscena di Meloni che chiama Salvini, lui che non risponde, l'ho detto prima io, non l'hai detto prima tu, insomma mi sembra che nell'inadeguatezza totale che sta dimostrando la nostra classe dirigente si vede un'inadeguatezza al governo e si vede anche un'opposizione che non riesce nemmeno a fare un'opposizione unita in un momento in cui forse fare opposizione potrebbe essere un po' più semplice. Quindi questo fa preoccupare per il futuro, perché si vedono solo dei baralumi di saggezza qua è la A, ma dal punto di vista comunicativo e pratico vedo molta inadeguatezza. Da un punto di vista comunicativo e pratico anche lei vede molta inadeguatezza caro figlio e la fase 1 che ha sicuramente favorito le forze di governo sarà ancora così nella cosiddetta fase 2 bis o invece favorirà le opposizioni? Ma della comunicazione abbiamo parlato più volte, non voglio ripetere quello che abbiamo in questa sede anche detto più volte, purtroppo una comunicazione con grandissimi difetti, qualcuno forse proprio qui da voi ha detto una comunicazione amatoriale, mi sembra purtroppo una definizione corretta, anche quella del governo sul quale io ho un giudizio articolato e alla fine dei conti tendo a dare la sufficienza, non sulla comunicazione, sull'azione, però quello che dobbiamo ripeterci fino alla noia è che in politica, in tutti i campi in verità, ma in politica più di quanto non accade in altri campi, la comunicazione non è un involucro nel quale impacchetti i contenuti, la comunicazione è parte del contenuto, la comunicazione è politica e se la fai male, se la fai in modo amatoriale, se non tieni conto della questione fondamentale, chi è il destinatario e cosa capisce di quello che gli dici, conduce un'azione politica che è difettosa o grandemente difettosa e non c'è dubbio che l'azione del governo da questo punto di vista è difettosa e lo dice uno che questo governo come posso dire lo sostiene nel senso che io ho all'inizio, lei lo ricorderà, detto che era una buona cosa che questo governo si formasse e che con tutte quante le annotazioni critiche do un giudizio non negativo. Detto questo, l'opposizione, questa storia della discesa in piazza mi sembra un ottimo regalo al governo, ma appunto mi fa piacere, mi sembra una coazione a ripetere comportamenti che invece dovrebbero essere rinnovati anche dal punto di vista dell'opposizione. La questione, a mio modo di vedere, pensando alla fase successiva, è la seguente. Io credo che ciò che sta avvantaggiando alla fine di tutti i conti il governo è il fatto che l'opposizione non sia capace in una fase di emergenza come questa di elaborare un discorso politico che non continui a rifugiarsi negli schemi populistici e propagandistici che vanno bene in momenti diversi e io credo che loro continueranno a fare questo e credo che quindi quello sviluppo cui lei alludeva probabilmente non ci sarà. Io voglio chiarire una cosa, a me piacerebbe vivere in un paese in cui anche chi la pensa diversamente da me, cioè la destra, fosse una destra di contenuti rispetto ai quali io possa dissentire, ma rispetto alla cui azione io non debba preoccuparmi. Una destra di tipo populista, come una sinistra di tipo populista quando c'è, è sostanzialmente la negazione della politica, perché il populismo e la propaganda è lo svuotamento dei contenuti per trasformare questi contenuti in puri slogan. Io mi preoccupo di un paese, di una democrazia in cui una grossa parte dello schieramento politico si nutre e diffonde soprattutto slogan e affermazioni di tipo populistico e propagandistico. È un timore che condividi, Sallusti. No, però voglio dire, caro figlio, che per sua fortuna ha avuto una breve, dico la fortuna e sta nel breve esperienza politica, se non ricordo male, nelle figlie del PD, che insomma non è che le piazze della sinistra e quelle delle sardine profumano e quelle della destra puzzano, o sono tutte democratiche o sono tutte populiste, perché la piazza è populista per definizione, è il popolo che scende in piazza. Dopodiché io penso, e caro figlio secondo me lo sa meglio di me perché ha studiato la storia più a lungo e meglio di quanto l'abbia fatto io, che nella storia non c'è un solo caso di un leader, di un'emergenza che sia stato anche leader della ricostruzione. Non so perché questo accade, perché probabilmente a un certo punto la gente scarica su chi ha gestito l'emergenza le colpe, anche magari ingiuste, ma comunque con qualcuno deve prendersela. Insomma, se non ce l'ha fatta Churchill a essere rieletto dopo aver vinto la seconda guerra mondiale, dubito che Conte potrà, che gli italiani permetteranno a Conte di governare davvero la ricostruzione dopo che ha gestito l'emergenza, bene o male, secondo me è male, secondo lei è benino. Però è un fatto, non so se chiamarlo statistico o storico, ma è così. È così caro figlio, quindi Conte qualsiasi cosa faccia, comunque nella fase della ricostruzione è probabile che non ci sarà? Non sarei così categorico, intanto è vero che Churchill non è stato rieletto subito dopo la guerra, ma cinque anni dopo è tornato in modo abbastanza trionfale. Ora immagino che Conte sia soddisfatto di questa assimilazione che stiamo facendo qui, ma a parte Churchill e a parte gli altri leader delle crisi voglio solo fare una precisazione. Io non ho detto che la piazza di destra è populista e la piazza di sinistra non lo è, ho detto che non mi piacciono i populismi né a destra né a sinistra e mi dispiace del fatto che oggi la destra in Italia sia in gran parte, non tutta, infatti chi è meno populista va meglio di chi è più populista, incline ad atteggiamenti soprattutto propagandistici e populistici. Questo mi dispiace e mi preoccupa, perché è un sistema in cui una destra, in cui ci sono persone che la pensano diversamente da me sul merito, ma con i quali condividiamo l'idea del metodo democratico, mi rassicura, io non mi preoccupo se vince una destra di questo tipo, preferisco che vinca la sinistra, ma è una questione che sta tutta quanta nel sistema delle regole. Detto questo, io non lo so quale sarà il destino di Conte, se dopo questa emergenza la sua carriera politica riceverà uno slancio ulteriore oppure verrà bloccata. La mia sensazione è che lui stia giocando abbastanza bene le sue carte, stia creando un patrimonio politico che forse potrà essere speso anche nella fase successiva. I sondaggi lo dicono, ma insomma staremo qui a monitorare come sempre. Dottoressa Colizza sul fronte scientifico sanitario, ci dica se dobbiamo così essere invece ottimisti e se c'è una buona notizia che arriva dagli Stati Uniti, perché la società americana moderna ha annunciato oggi i risultati dei suoi test sul vaccino e ha detto che chi si è sottoposto alla sperimentazione, ha sviluppato anticorpi. È una svolta che potrà portarci a un vaccino in tempi diciamo rapidi oppure la strada è ancora lunga? La strada è ancora lunga, io direi lunghissima. Questo è sicuramente un primo passo, estremamente importante. Siamo nella fase 1 di quelli che vengono chiamati trial clinici, quindi dove la società che sta sviluppando il vaccino in collaborazione con l'Istituto Nazionale per le allergie e le malattie infettive degli Stati Uniti hanno sottoposto 45 volontari adulti e in salute alla somministrazione di questo test di vaccino sotto forma di dosaggi differenti. Questo serve in questa fase per valutare la sicurezza e la sicurezza anche sulla base di diversi dosaggi perché ovviamente bisogna capire la quantità e anche se il vaccino deve essere ripetuto, uno, due dosi, tre dosi e così via. Al momento per quanto riguarda si tratta di un comunicato stampa ancora oggi non c'è stata ancora una valutazione scientifica di questo lavoro, ma sulla base del comunicato stampa quattro partecipanti hanno dimostrato appunto la presenza di anticorpi nella stessa magnitudine osservata dopo un'infezione naturale da Covid-19. Quindi questo sicuramente è il primo passo che ci porterà però poi dopo a una fase due in cui dovremo testare non soltanto la tolleranza ma anche l'efficacia e del vaccino stesso per evitare che crei rischi e effetti collaterali che sono di maggiore impatto della soluzione che cerchiamo di ottenere e poi su migliaia di persone in fase tre. Ed è per questo motivo la strada è molto lunga, può avere diciamo varie problematiche durante lo sviluppo di un vaccino, non sempre si arriva poi a svilupparlo un vaccino dal motivo per cui ci sono al momento più di 70 iniziative nel mondo per lo sviluppo del vaccino contro il Covid-19. Quindi è meglio che impariamo a convivere nella insicurezza, il più possibile insicurezza con questo coronavirus perché è ancora lunga la strada mi pare di avere capito. Luca Abizzarri, volevo chiederle siccome lei è noto soprattutto come attore comico, allora la pandemia come ha cambiato il nostro modo di ridere? Beh un po' l'ha cambiata perché sulla pandemia c'è poco da ridere, insomma non è così facile trovare il lato divertente o comico di una situazione così drammatica, però poi le occasioni di risate ci sono, basta sentire che non so Conte viene paragonato a Churchill ed è già una comicità involontaria probabilmente. L'altro giorno quando vedevo Conte parlare con Casalino che lo guardava male a due metri di distanza tutto pensavo tranne che Churchill devo dire la verità. E quando caro figlio dice che la pandemia ci ha insegnato una cosa, cioè il rapporto sano con l'errore, lei è d'accordo e che errore si rimprovera? Diciamo che in generale nella mia vita me ne ho fatti molti e credo che, spero, ne farò ancora tanti. Sicuramente bisogna capire anche la posizione in cui si è, credo che fare degli errori in posizioni apicali in un momento drammatico possa essere deleterio per il paese, per l'economia del paese, per la salute del paese. Ed è per questo che ci vorrebbe un po' più di serietà, dove ci vuole serietà è lasciare fare i comici il loro mestiere. Caro figlio, e poi voglio interpellare rapidamente telegraficamente, allora ci ha insegnato un rapporto sano con l'errore, in che senso? E lei che errore si rimprovera? Può insegnarci, può insegnarci un rapporto sano con l'errore, ma per quello che mi riguarda nulla di catastrofico, ma io come altri ho detto delle cose sbagliate, mi sono all'inizio soprattutto di questa emergenza, un difetto di interpretazione legato al bisogno di esprimere un'opinione pur che sia. Ecco, imparare a non esprimere un'opinione pur che sia in assenza degli elementi è una buona cosa e sul tema dell'errore mi lasci dire però una questione fondamentale. La differenza fra gli umani non è fra chi fa gli errori, quale che sia la sua posizione, e chi non ne fa. Gli errori li facciamo tutti e li facciamo continuamente e gli errori sono il nostro modo di progredire, di imparare nuovi complici, risolvere i problemi. La differenza, la separazione, è fra chi gli errori li fa, li riconosce e per questo è più rapido a rimuovere le eventuali conseguenze dannose e chi invece rimuove l'errore, nel senso che nega di averlo fatto. Malattia molto diffusa fra i politici, una politica diversa, una politica del futuro, a mio modo di vedere dovrà includere un diverso rapporto con il dubbio e con l'errore intelligente. Sallusti, tu hai un rapporto più sano con l'errore adesso? Telegrafico? Beh sì, più disincantato. Io penso che soprattutto nel nostro mestiere questa vicenda abbia dato un senso al nostro lavoro e abbiamo capito di quanto, come dire, non dico che abbiamo perso tempo, ma insomma quanto era inutile fare tante trasmissioni, tante pagine di giornali su cose che sono poi assolutamente marginali e lontanissime dalla realtà, dal bisogno delle persone, dalla concretezza della vita quotidiana. Ecco, in questo la pandemia, a me personalmente, ma credo a tanti colleghi, mi ha fatto capire tante cose e immagino di non ripetere da domani gli errori che inconsapevolmente facevo fino a pochi mesi fa. Dottoressa Colizza, lei c'è un errore che si rimprovera? Perché i suoi errori possono essere, diciamo, avere un impatto molto importante? Diciamo, questi ultimi mesi sono stati mesi di enorme responsabilità, la responsabilità si è sentita tutta. L'impatto, insomma, sono stati mesi senza dubbi impegnativi. Finora non abbiamo fatto grandi errori, devo dire, nella comunicazione dei risultati. Ricordando in maniera retrospettiva, oggi ci sembra di capire tutto e un mese fa, un mese e mezzo fa, navigavamo completamente nel buio. Le prime settimane del confinamento non eravamo neanche in grado di capire se stava avendo l'impatto che ci auguravamo. Quindi, più che... Allora, la scienza vive continuamente negli errori. Ogni stima, sia teorica che sperimentale, è affetta da errori, che significa che è affetta da una certa incertezza. In un momento di un'epidemia emergente, questa incertezza diventa enorme. E quindi il nostro lavoro è anche fronteggiare questa incertezza e cercare di dare delle risposte che hanno senso in una situazione di grande incertezza. È estremamente difficile. E ci credo. Bizzarri, c'è una buona notizia, un'altra buona notizia oggi, che lei da presidente della Fondazione Palazzo Ducale di Genova, da domani lì si riapre il palazzo. Come? Per vedere cosa? Allora, avevamo una mostra di Banzi che riapriamo domani e che terremo aperta una settimana. Ci servirà anche per provare un po' di cose. Abbiamo cambiato naturalmente il modo di fruire della mostra. Ci sono ingressi regolamentati, c'è un percorso da fare. Chiaramente ci siamo attenuti a tutte le linee guida che ci sono state date dal governo. Quindi sì, è come dire, Genova, noi riapriamo perché Genova è una città che in questo momento sta rinascendo anche con il nuovo ponte che presto verrà riaperto. Per cui ci sembra giusto provare a riaprire, naturalmente rispettando tutte le regole, tutte le leggi. In più stiamo cercando di inventare altre cose. Insomma, probabilmente gli enti culturali come Palazzo Ducale, i musei, dovranno quest'anno vivere forse uno dei loro anni più difficili, ma anche dei loro anni più interessanti. Perché tutti noi dovremo reinventarci il modo di fare cultura, e di fare arte. Magari i musei non potranno più fare soltanto i musei, i teatri non potranno fare soltanto i teatri, ma ci vorrà... Cioè bisognerà reinventarsi. ...de nuove idee per... Bisognerà reinventarsi un po' tutti, perché un altro settore che registra uno dei suoi anni più difficili è quello della scuola, come sapete, che è un po' la grande dimenticata in questa pandemia, come ci spiega Paolo Pagliaro. Pochi secondi di pochissà. Le ferite sono due. La prima è la chiusura delle scuole fino all'autunno. La seconda è l'indifferenza con cui è stata accolta questa dolorosa decisione. Quasi tutti i paesi europei hanno già riaperto o stanno riaprendo le scuole, anche se si trovano in condizioni sanitarie analoghe alla nostra. Francia e Germania, Belgio, Danimarca e Olanda, Norvegia e Repubblica Ceca, Austria e Svizzera e in parte perfino il Regno Unito. Sono ripartiti tutti, sia pure, con prudenza e gradualità. Anche la Spagna sta valutando di svolgere almeno qualche settimana di scuola prima della pausa estiva. Nulla del genere è previsto in Italia e questo ha indotto alcuni tra i nostri più prestigiosi intellettuali a lanciare un appello per la ripresa dell'insegnamento scolastico nelle sue modalità tradizionali. I nomi sono noti ai ragazzi che studiano sui loro testi. Asorrosa, Bettini, Cacciari, Canfora, Curi, Di Cesare, Esposito, Fusini, Giovine, Guarino, Marramao, Resta, Rovatti, Sini, Vassallo, Vercellone. I firmatari contestano che le modalità di insegnamento in presenza o da remoto siano intercambiabili. Chi lo pensa, scrivono, non ha colto il fondamento culturale e civile della scuola di una tradizione che dura da più di due millenni e mezzo e che non può essere allegramente rimpiazzata dai monitor dei computer, dallo smanettamento di una tastiera, dalla sudditanza ai motori di ricerca. La scuola, si legge nell'appello, vuol dire anzitutto socialità fra allievi e con i docenti, formazione nel rapporto con gli altri, crescita intellettuale e morale, maturazione di una coscienza civile e politica, cose forse più importanti e incisive di una messa in piega o di un cappuccino, con tutto il rispetto per ciò di cui discutiamo con passione ogni giorno. Allora siamo arrivati alla fine della puntata, ringrazio Vittoria Colizza, grazie Gianrico Carofiglio, grazie Alessandro Sallusti, grazie Luca Bizzarri e ricordo che da domani il Palazzo Ducale di Genova verrà riaperto. Quindi una buona notizia, grazie spettatrici e spettatori, vi lascio al film drammatico con Michael Douglas e Robert Duvall, Un giorno di ordinaria follia e noi come sempre ci vediamo domani a 8 e mezzo. Grazie.